Non si poteva tralasciare l'architettura normanna all'interno della Facoltà di Architettura di Palermo per la Notte Europea dei Ricercatori. Ne parliamo insieme a una delle referenti dello stand. Noi ci occupiamo dell'architettura normanna perché lavoriamo per un progetto europeo con il capofile della regione siciliana. Il progetto si chiama IHeritage, ICT Mediterranean Platform for UNESCO Cultural Heritage. Grazie ai colleghi che si occupano di rilievi fotogrammetrici, rilievi laser scanner, abbiamo rilevato un tratto del CANAT del Gesuitico Alto. L'obiettivo è appunto consentire la possibilità a chi ha delle disabilità, delle difficoltà, quindi a poter frequentare questi spazi che sono messi a disposizione anche dall'associazione CAI con cui lavoriamo appunto per lo sviluppo di questo progetto, per una parte di questo progetto, consentire appunto di poter visitarli virtualmente. Il progetto IHeritage ha lo scopo di valorizzare appunto il patrimonio UNESCO della Palermo Arabo Norman attraverso la real prodotti in realtà aumentata e in realtà virtuale. I colleghi qui sono coinvolti in questa attività e abbiamo appena iniziato, quindi questi sono i primissimi risultati di questo lavoro. Speriamo il prossimo anno di avere anche dei prodotti che possono essere già commercializzati perché questo progetto ha anche questo obiettivo, creare nuove occasioni per sviluppo di start up, quindi invitiamo i giovani ragazzi appassionati di ICT a collegarsi al nostro sito. Noi stiamo facendo dei seminari nell'ambito di un living lab e lo scopo è proprio quello di selezionare idee per prodotti innovativi che possono essere utili per valorizzare questi monumenti.